Chi non riesce a votare? Ragosta. Mucci. Ci siamo? Abbiamo votato tutti? Fiano. La votazione è chiusa. Presenti 396 votanti 297, astenuti 99, maggioranza 149, fuori 297, contrari. Nessuno la Camera approva. Siamo all'articolo 16, non ha emendamenti. Se nessuno chiede intervenire lo pongo in votazione. Votazione aperta. Chi non riesce a votare? Carfagna. Carloni. Ravetto. Ok. Abbiamo votato tutti? Zaratti. La votazione è chiusa. Presenti 398, votanti 297, astenuti 101, maggioranza 149, fuori 297, contrari nessuno, la Camera approva. Ora siamo all'articolo 19, anch'esso senza emendamenti. Se nessuno chiede intervenire lo pongo in votazione. La votazione è aperta. Chi non riesce a votare? Lombardi. Ok. Altri? Stumpo. Costantino. Matteo Bragantini. Ci siamo? Abbiamo votato tutti? La votazione è chiusa. Presenti 400, votanti 314, astenuti 86, maggioranza 158, fuori 299, contrari 15. La Camera approva. Ora siamo all'articolo 20. Ritirato il 20.2 Monchiero e il 20.3 Monchiero. Deve darmi il parere sul soppressivo 2.1 Tor.